Oh, ma cosa è arrivato? Finalmente è arrivato un bel pacchetto con un bel libro! Ah, vediamo chi è qui. Che bella inquadratura sulle fruste proprio! Ok, ce l'abbiamo fatta. Mettiamolo per il verso dritto. Finalmente mi è arrivata questa! Che è il primo volume dell'ultima antologia in cui sono riuscita a pubblicare. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente torniamo a fare un video serio. Ci prendiamo un po' di pausa dal trash. Comunque non preoccupatevi, ho visto altri film trash, quindi torneranno anche le recensioni di film trash. E il motivo per cui oggi facciamo un video serio è per parlarvi di questo. Questo che vi ho mostrato è solamente il primo volume di un'antologia. Vedrete comparire in sovraimpressione anche le copertine del secondo e del terzo volume. L'antologia è intitolata Fantascientifico ed è edito da Idrovolante Edizioni. Perché vi parlo di questa antologia? Beh, ovviamente perché in questa antologia c'è anche il mio racconto. Ci tengo particolarmente a parlarvi di questa antologia perché la storia di questo racconto è un pochino sofferta. Allora, ho scritto questo racconto per un altro concorso, sempre a tema fantascienza, come suggerisce il titolo. L'avevo scritto a ridosso degli esami qualche anno fa, due o tre anni fa. Quindi immaginatevi, esami di scuola che sono dietro l'angolo. E io che cosa faccio? Anziché studiare, scrivo racconti. Però non pensate che sia stata una perdita di tempo, perché in contemporanea stavo lavorando a un altro racconto che è stato pubblicato praticamente subito, l'avevo scritto per un concorso apposta ed è stato pubblicato subito in antologia che parla di un pasticcere, un pasticcere svizzero e questa storia, per questa storia ho dovuto fare una ricerca su una determinata cosa che mi ha salvato la vita all'esame. Scrivetemi nei commenti se volete sapere la storia di questo racconto salva esame. Ma ritorniamo ora al tema principale, cioè fantascienza. Il racconto che ho pubblicato qui dentro, e vi dico subito il titolo, dai non siamo sulle spine, si intitola Tempus Fugit, l'avevo già presentato a tutta una serie di concorsi. E l'unico a cui aveva vinto qualcosa, per la precisione il quinto posto, era un concorso di un'associazione che ha fatto la premiazione in Calabria, in un paesino sconosciutissimo, almeno sconosciutissimo da parte mia. Eppure avendo vinto il quinto posto non c'era prevista la pubblicazione in antologia, quindi il racconto non era mai stato pubblicato. Per partecipare a questo concorso qui si potevano presentare anche racconti già premiati, credo anche già pubblicati, purché l'autore ne detnessi i diritti, vabbè insomma non è importante. E quindi ho deciso di parteciparci e stavolta è andata bene. Anzi direi che è andata meglio perché questi della giuria erano così entusiasti che hanno pubblicato, non so se tutti tutti i racconti che gli sono pervenuti, ma un bel numero, tanto da farci appunto tre volumi, di cui questo è solo il primo. Devo ammettere che avrei voluto fare questo video con già una bella idea in testa di anche tutti gli altri autori, perché spesso nelle antologie ci sono cani porci, perché ci sono anche autori che non sanno scrivere o che scrivono delle cose un pochino, diciamo che potrebbero disturbare persone particolarmente sensibili, ecco. Che ci sta però forse in un'antologia non così tanto. Tuttavia ci sono anche dei racconti molto belli. Io ricordo la prima antologia in cui ho pubblicato, che era per fiabe e favole, c'era una storia bellissima di una principessa che veniva rapita da un tornado, carinissima, e io credo che un giorno ve la leggerò, giusto per così. Fatemi sapere nei commenti se volete anche questa storia. Purtroppo non ho avuto tempo di leggerli tutti ancora, perché sono davvero tantissimi e io ho dovuto studiare un sacco in questi ultimi tempi, quindi adesso mi sto dedicando un pochino alla lettura, però vorrei dedicarmi anche a qualche lettura un pochino più impegnata di racconti in antologia. Comunque sia, il video, questo qua, lo sto facendo fondamentalmente per pubblicizzare l'antologia, perché la casa editrice, questo mi è piaciuto, non solo ha detto agli autori siete autorizzati a diffondere copertine, informazioni, ma anzi, fateci pubblicità, che è stata una cosa, secondo me, intelligente da parte della casa editrice, perché io, autore, ho interesse a pubblicizzarmi per far conoscere i miei lavori e quindi il mio racconto, ma questo significa che faccio pubblicità alla casa editrice e quindi, visto che questo è un video pubblicitario, praticamente, io vi lascio qui sotto in descrizione anche il link della casa editrice se volete acquistare questo o gli altri volumi. Sempre per restare in tema pubblicitario, vi vorrei far sapere che in questa antologia, tra tutte le altre persone che ci hanno pubblicato, me esclusa, naturalmente, c'è anche un mio carissimo amico, tale proprietario del canale Non Solo Trek, canale che, come al solito, vi invito a visitare. Sì, vi ricordate che avevamo fatto un video in collaborazione su i flop di Star Trek, in cui io avevo malamente distrutto Enterprise e lui aveva criticato invece Discovery. ebbene, costui ha scritto a sua volta un racconto che è stato pubblicato in questa antologia, nel terzo volume, un racconto, peraltro, molto carino, un po' inquietante, che forse lascia un po' di buchi, nel senso che avrei voluto leggere più roba, ma la stessa critica la si può fare al mio racconto, e in effetti il motivo principale è il problema che affligge tutti gli scrittori che partecipano ai concorsi, e cioè mancanza di battute. Già che ci siamo, vi notifico anche che del caro signor Non Solo Trek, alias, ormai lo possiamo dire, Leonardo Tovaglia, è uscito anche il suo romanzo d'esordio, pubblicato da Montag Edizioni, che si intitola Unione Galattica, la nascita. Un titolo accattivante, non vedo l'ora di leggerlo, appena le spedizioni delle poste italiane cominceranno a funzionare, e io riceverò la mia copia. Comunque già che ci siamo, vi lascio qui sotto il link di acquisto anche per quello. Considerato che è la mia stessa casa editrice, potrete comprare i nostri romanzi in coppia, così fate coppia di romanzi di youtuber sconosciutissimi. E vi lascio qui sotto, mamma mia quanta roba che ci sarà in questo infabox, vi lascio qui sotto anche l'invito per il gruppo Telegram dedicato appositamente al suo romanzo, Unione Galattica, la nascita. Terminata questa poco interessante televendita, vi lascio qui in fondo, appena lo registrerò, un interessantissimo video in cui sorbirete la mia vociaccia leggere il mio racconto. E naturalmente, visto che siamo su YouTube, dobbiamo farci un video, ci metterò delle belle immagini di sottofondo, cosicché se almeno il vostro udito sarà martoriato, almeno gli occhi avranno una bella vista. E niente, per oggi questo è tutto, noi ci rivediamo al prossimo video, serio o faceto che sia, e niente, ciao! Ciao!